Salve, sono Gian Piero Costantino e sono un ricercatore dell'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e lavoro per il gruppo di Transworthy e Secure Future Internet. Lo strumento principale che vedremo all'interno di questo modulo per fare testing di sicurezza informatica è chiamato Metasploit. Metasploit è una piattaforma molto utilizzata quando si fa hacking e in particolare Metasploit ci permette di sfruttare determinate vulnerabilità che abbiamo trovato nel nostro sistema target perché abbiamo a disposizione migliaia di exploit e pelot pronti per essere utilizzati. La vulnerabilità di un componente informatico è una mancanza di sicurezza all'interno di quel componente che può essere sfruttata da un attaccante per ottenere dei privilegi o eseguire delle azioni che normalmente non sarebbero eseguibili. Generalmente chi attacca esegue questi sei punti. Il primo parla della preslustrazione della rete, cioè la situazione in cui cerchiamo di individuare un dispositivo, quindi un computer, che possa essere vulnerabile. Il secondo punto richiede l'analisi del dispositivo, cioè dobbiamo andare a capire se il dispositivo che vogliamo attaccare è un dispositivo vulnerabile e quali sono le sue vulnerabilità in dettaglio. Invece il terzo punto è quello di tentare di ottenere l'accesso attraverso la vulnerabilità scoperta. Infatti una volta dentro il dispositivo attaccato possiamo passare al quarto punto, quello di incrementare i privilegi, cioè ottenere più privilegi rispetto a quello che abbiamo ottenuto quando abbiamo ottenuto l'accesso. Così ci permette ad esempio di avere il pieno controllo del dispositivo conquistato. Infine dobbiamo mantenere l'accesso, cioè la possibilità di poter ritornare sul dispositivo conquistato anche se per qualche ragione il dispositivo dovesse essere spento e riacceso in un secondo momento o ad esempio riavviato. Infine l'ultimo punto è quello di coprire le tracce. Questo è un punto importante perché serve proprio a nascondere la propria intrusione nel dispositivo appena conquistato. In questa slide possiamo vedere sette passi fondamentali di chi attacca usando Metasploit. Il primo passo richiede appunto la selezione di un exploit. Successivamente questo exploit dovrà essere configurato. Al terzo passo dobbiamo selezionare un payload e al quarto dobbiamo configurare il payload appena selezionato. Al quinto passo dobbiamo eseguire l'exploit ed infine al sesto passo, se l'exploit è andato a buon fine, potremmo collegarci al dispositivo che vogliamo conquistare. E il settimo passo appunto indica il fatto di poter eseguire le azioni desiderate nel dispositivo appena conquistato. Fino alla slide precedente abbiamo visto un po' di teoria di Metasploit. Adesso passiamo sul lato pratico. Quindi dal nostro sistema operativo, se vogliamo eseguire Metasploit, semplicemente digitiamo sul terminale la stringa MSF Console. Questo ci permetterà a tutti gli effetti di avviare il programma Metasploit. In caso di errore durante l'esecuzione di MSF Console, vi consiglio di digitare sul terminale i comandi Service, Postgres e SQL e Start. A questo punto, se tutto va a buon fine, Metasploit sarà correttamente eseguito. Come primo passo possiamo vedere tutti gli exploit presenti all'interno di Metasploit. Questo può essere fatto attraverso il comando Show Exploits. Inoltre possiamo cercare gli exploit presenti su Metasploit. Per fare questo possiamo utilizzare il comando Search. Ma per capire più in dettaglio come il comando Search funzioni, possiamo utilizzare il comando Help Search. Esempi di ricerca di exploit sono quelli indicati nella slide. Ad esempio, se vogliamo cercare uno specifico CVE, possiamo eseguire il comando Search CVE 2.015-5119. Questo ci permette di selezionare e visualizzare il CVE ricercato. Se ad esempio vogliamo cercare e visualizzare tutti i CVE rilasciati nel 2015, possiamo utilizzare il comando Search CVE 2.015. Ad esempio, se vogliamo cercare un exploit, possiamo utilizzare il comando Search nome dell'exploit. Come è possibile vedere dalla slide, in questo caso vogliamo cercare l'exploit che contiene la stringa Unreal. E quindi il comando che eseguiamo è appunto Search Unreal. E questo comando ci dà come risultato tutti gli exploit che contengono la parola chiave Unreal. Nel caso specifico, come visualizzato nella slide, possiamo avere più informazioni, esempio, sull'exploit di tipo Unreal IRC D3281 Backdoor. Per esempio, nell'exploit che stiamo analizzando, questo exploit conteneva una backdoor malevola che permetteva l'accesso da remoto al dispositivo e questa backdoor era presente su tutti gli Unreal IRC nella versione 3.2.8.1 e che era un archivio disponibile e scaricabile dal novembre del 2009 al giugno del 2010. Quando generalmente vogliamo effettuare un attacco per poter conquistare un dispositivo con una determinata vulnerabilità, selezioniamo un exploit. L'exploit è appunto quel programma costruito ad hoc per poter sfruttare la vulnerabilità e permetterci l'accesso alla macchina remota. Prima abbiamo visto come il comando info sull'exploit di tipo Unreal ci dava le informazioni su questa tipologia di exploit. Adesso, se vogliamo selezionare e utilizzare questo exploit, possiamo farlo attraverso il comando use, nome dell'exploit, così come dimostrato nella slide. Successivamente, dopo aver selezionato l'exploit, dobbiamo configurarlo. La configurazione di un exploit è solitamente una procedura abbastanza semplice e questa viene fatta attraverso l'impostazione di determinate variabili. Queste variabili possono essere impostate attraverso il comando set, nome variabile, e il valore che si vuole dare al parametro della variabile. Nell'exploit, i parametri comuni sono ad esempio L-host o R-host. Ad esempio, nel caso di L-host, noi vogliamo indicare l'indirizzo IP della macchina locale, quindi della macchina attaccante. Invece, quando selezioniamo l'R-host, indichiamo l'host remoto, quindi l'indirizzo IP dell'host che vogliamo del computer o dispositivo che vorremmo attaccare. Gli altri due parametri L-port e R-port servono a specificare, nel primo caso, la porta locale del computer, quindi di chi attacca. Nel secondo caso, la porta remota del computer che si vuole attaccare, quindi del computer vittima. Successivamente, dopo aver selezionato e configurato l'exploit, dobbiamo selezionare il Peload, che è quel programma che viene eseguito una volta conquistato il dispositivo remoto. Solitamente il Peload viene rappresentato attraverso una shell tradizionale che ci permette di eseguire dei comandi nel dispositivo conquistato. Ad esempio, possiamo creare dei file, delle cartelle, oppure scaricare dei file da remoto dal computer vittima al computer attaccante. Nella slide, ad esempio, sono rappresentati ed elencati quattro tipi di Peload che vengono utilizzati se il computer remoto che vogliamo conquistare, esempio di tipo SX, quindi un Mac, un Linux, oppure un computer Windows. In tutti questi casi, la scelta è quella di utilizzare e ottenere come Peload un terminale che, come detto in precedenza, ci permette di interagire col dispositivo conquistato. La particolarità di questo Peload è che viene eseguita una shell che permette di effettuare un collegamento vero e proprio fra il computer vittima e il computer dell'attaccante. Quindi, questa tipologia di shell permette di evitare, per esempio, la presenza di eventuali firewall utilizzati per difendere e bloccare determinate connessioni non autorizzate. Una particolare di shell che può essere utilizzata all'interno di Metasploit, selezionata appunto come Peload, è quella chiamata Meterpreter. Meterpreter è come una shell tradizionale, solo che in più ci dà determinati comandi che ci permettono di interagire in maniera più semplice col dispositivo conquistato. Ad esempio, uno di questi comandi ci dà la possibilità di poter scaricare in maniera piuttosto semplice dei file dal computer vittima verso il computer dell'attaccante, oppure fare l'operazione inversa, cioè poter caricare dei file dal computer dell'attaccante verso il computer della vittima. La shell Meterpreter viene eseguita subito dopo l'accesso alla macchina vittima. Infatti, quando viene eseguito l'exploit, possiamo vedere in questi passi che l'ultimo passo che viene eseguito appunto è quello della creazione di una sessione Meterpreter. Quindi a questo punto significa che il nostro exploit ha avuto successo e possiamo tentare l'accesso ed eseguire l'accesso sul dispositivo appena conquistato. Fino a questo punto abbiamo visto un po' in teoria come utilizzare Metasploit, gli exploit e il payload, e in particolare le shell che possono essere utilizzate nei vari payload. Adesso proviamo a mettere in pratica attraverso questa esercitazione l'utilizzo completo appunto dei diversi passi che ci mette a disposizione Metasploit per poter conquistare un computer con sistema operativo Windows XP. Vi ricordo che l'uso illecito di questi strumenti è punibile a norma di legge. Durante questa esercitazione faremo uso di un particolare tipologia di exploit, chiamato Web Delivery. Per poter utilizzare questo exploit, usate il comando Use e il nome dell'exploit, così come indicato nella slide. In particolare questo exploit esegue un server web che può essere utilizzato dall'attaccante per poter diffondere il proprio payload. Un comando importante che deve essere configurato all'interno di questo exploit è quello dei target. I target indicano ad esempio la tipologia di sistemi operativi o di programmi che sono vulnerabili a questo exploit. Per selezionare un target, eseguire il comando Set, Target e l'ID del target che è solitamente specificato attraverso un numero. Dopo aver selezionato l'exploit e averlo configurato, dobbiamo selezionare il payload. In questa esercitazione utilizzeremo come payload la tipologia di payload Metaerpreter Reverse Underscore TCP. Questo può essere selezionato col comando Set, nome payload. La successiva configurazione può essere fatta attraverso il comando Set, ma per visualizzare quali sono i parametri che devono essere configurati, possiamo eseguire il comando Show Options. Così come mostrato nella slide, il comando Show Options richiede diversi parametri e in particolare i parametri fondamentali sono quelli del L-host e delle porte. Come indicato in precedenza, l'L-host fa riferimento all'indirizzo IP dell'host locale, quindi dell'indirizzo IP dell'attaccante, e le porte fa riferimento alla porta dell'host locale, quindi la porta di ascolto della macchina dell'attaccante. Per concludere, dobbiamo configurare un ulteriore parametro. Questo ulteriore parametro prende il nome di SRV Host, che indica il server host. Può essere configurato attraverso il comando Set, Server Host, indirizzo IP del server locale dell'attaccante. Adesso abbiamo configurato sia l'Exploit che il Peload e siamo pronti per poter eseguire l'Exploit. Questo può essere fatto semplicemente digitando il comando Exploit. Come indicato nella slide, la stringa Meterpreter Session 1 indica il fatto che l'Exploit ha avuto successo correttamente e che una nuova sessione è stata creata tra il computer dell'attaccante e il computer della vittima. Per elencare il numero di sessioni disponibili attualmente durante il nostro attacco possiamo digitare il comando Sessions spazio meno i. Successivamente, se vogliamo entrare dentro una sessione, utilizziamo il comando Sessions meno i il numero della sessione. Quindi, se ad esempio abbiamo soltanto una sessione disponibile, il comando che utilizzeremo è Sessions meno i 1. A questo punto il Peload si attiverà attraverso la visualizzazione della Shell Meterpreter che abbiamo utilizzato appunto come Peload. Come vi ho detto in precedenza, la Shell Meterpreter è una Shell tradizionale ma offre anche dei comandi in più che ci permettono di navigare e ottenere informazioni sul sistema operativo appena conquistato. Ad esempio, nella slide possiamo vedere un elenco di comandi che possono essere eseguiti all'interno di Meterpreter. Il comando interessante appunto può essere Download che ci permette di scaricare un file o una directory così come l'Upload, cioè caricare un file o una directory sul dispositivo conquistato. Ma altri comandi interessanti possono essere ad esempio Edit che ci permette di modificare un file di testo oppure creare una nuova directory attraverso il comando MKDR. Altri comandi utilizzabili sono ad esempio RM per rimuovere o eliminare uno specifico file oppure RMDIR per rimuovere un'intera directory dal computer conquistato. In questa slide vediamo altri comandi che possono essere utilizzati per interrogare l'interfaccia di rete del computer conquistato. Ad esempio, se vogliamo conoscere informazioni relativi all'interfaccia di rete possiamo utilizzare il comando IFCONFIG o IFCONFIG. Se vogliamo visualizzare le attuali connessioni di rete possiamo utilizzare il comando NETSTAT. Altri comandi che possono essere eseguiti sul sistema conquistato sono questi presentati nella slide. Per esempio, il comando EXECUTE permette di eseguire un file sul computer remoto oppure il comando PS permette di elencare tutti i processi che sono in esecuzione sul computer remoto o altri come il comando SHELL permette di poter creare una nuova shell che appartiene al computer appena conquistato oppure il comando REBOOT che in effetti esegue un riavvio del computer remoto. Come vi ho detto in precedenza, attraverso il comando PS è possibile visualizzare tutti i processi che sono in esecuzione sul computer. Una caratteristica particolare di Metaerpeter è quella di poter migrare un determinato processo su un altro processo attualmente esistente. Ad esempio, attraverso il comando MIGRATE possiamo migrare il nostro processo che stiamo utilizzando per attaccare il computer remoto su un altro processo in esecuzione all'interno del sistema operativo. Un altro comando molto importante che dovrebbe essere utilizzato solo a scopo didattico e mai in una situazione reale il comando RUN WEBCAM permette di attivare la telecamera sul dispositivo conquistato. Quindi questo viene fatto in maniera del tutto trasparente e non consapevole da parte dell'utilizzatore del computer. Se vogliamo scoprire i parametri che sono a disposizione nel comando WEBCAM possiamo eseguire il comando RUN WEBCAM-H. Se invece vogliamo prendere continuamente dei fotogrammi dalla telecamera possiamo eseguire il comando RUN WEBCAM-L. Per effettuare uno screenshot del desktop remoto del computer conquistato possiamo semplicemente digitare il comando SCREENSHOT e questo effettuerà uno screenshot che verrà memorizzato sul computer locale dell'attaccante. Infine, per attivare il microfono del computer attaccato possiamo utilizzare il comando RUN SOUND RECORDER. Questo permette di attivare il microfono è poter registrare le conversazioni che avvengono dal computer della vittima e per esempio per registrare una conversazione di 30 secondi è sufficiente digitare il comando RUN SOUND RECORDER. Spero sia stato di vostro interesse. Grazie per l'attenzione e arrivederci.